Intro Bentornato Goodyear, bentornata Iniziamo a vedere i componenti di Windows 8.1 Update In questa lezione ti parlerò delle funzioni del Desktop Quanto visto dalle lezioni 59 in poi con i rispettivi video tutorial tutorial dedicati al Desktop di Windows 7 lo puoi utilizzare come base di partenza didattica applicabile in certo qual modo anche a questa sezione Tuttavia ci saranno comunque differenze e implementazioni eseguite per questa specifica versione della Microsoft Sai già però come accedervi ormai al Desktop Comunque puoi anche selezionare la visualizzazione del Desktop direttamente all'avvio del sistema operativo anziché visualizzare la schermata Start Come? Clicca con il pulsante Desktop del mouse in una zona vuota della barra dell'applicazione e seleziona la voce proprietà Dalla finestra che si presenta vai alla sezione Esplorazione ed in basso trovi la sotto sezione Schermata Start In essa vai a selezionare con un segno di sprunta la sezione Mostra il Desktop invece della schermata Start all'accesso o alla chiusura di tutte le applicazioni in una schermata Qui rappresentato uno screenshot Quindi dopo aver aperto questa sezione individua la sezione Esplorazioni e nella zona Schermata Start vai a posizionare il segno di spunta in questa sezione Dopodiché cliccando su OK e dal successivo revvio del PC avrai in visione immediatamente il Desktop in luogo della schermata Start Una peculiarità che troverai invece è la possibilità di dividere in due sezioni il tuo monitor Se non hai il doppio monitor a volte può tornare utile suddividere lo spazio visivo in due sezioni come in pratica se avessi due monitor Un po' come affiancare due finestre ma in modo più versatile Partendo dalla visualizzazione Desktop se posizioni il mouse su un margine estremo superiore dello schermo e contemporaneamente tieni premuto il pulsante sinistro del mouse spostando lo stesso verso il basso noterai una piccola magia In pratica il Desktop si rimpicciolerà e potrai spostare questa piccola finestra verso destra o verso sinistra del monitor e a rilascio otterrai una suddivisione La gestione sarà un po' più ostica ma potrai comunque eseguire alcune operazioni in contemporanea sulle due sezioni In entrambi potrai attivare programmi per la gestione del tuo lavoro Se apri addirittura più applicazioni potrai selezionarle la visualizzazione a tua scelta passando dall'una all'altra e potrai scegliere dove posizionare questa nuova applicazione se nella sezione di destra o di sinistra Anche dalla visualizzazione unica quindi a desktop potrai aprire più di un'applicazione e selezionarle comunque una alla volta Posizionando il mouse nel vertice in alto a sinistra potrai visionare una barra nella quale sono presenti le icone delle applicazioni già aperte Clicca su quella che vuoi visionare e ciò farà ingrandire la nuova applicazione sostituendo quella che precedentemente stavi visionando La visualizzazione da desktop a schermata start potrà avvenire comunque in qualsiasi momento tramite i comandi che già conosci Ogni applicazione aperta presenta una piccola icona in alto a sinistra Cliccando sopra quest'icona con il pulsante destro del mouse si aprirà un piccolo menu che ti permetterà di chiudere l'applicazione cosa che già ben sai fare cliccando naturalmente sul pulsante X di norma in alto a destra Potrai anche ridurre questa applicazione ad icona oppure inserirla nella colonna di sinistra o destra nella visualizzazione a doppia sezione in modo da poterci lavorare Qui è rappresentato appunto il menu che si viene a creare cliccando con il pulsante destro sull'icona rappresentante l'applicazione Potrai quindi dividere il desktop in due sezioni impostando questa applicazione verso sinistra o verso destra ridurla ad icona oppure chiudere l'applicazione stessa cosa che già puoi fare con questo pulsante Ripetendo invece il clic del mouse non sull'icona ma sulla finestra in visualizzazione della barra di sinistra dove sono aperte le varie applicazioni potrai alternare l'applicazione in visualizzazione al desktop oltre a funzioni che già conosci quindi chiudere, sostituire l'applicazione che tu scegli alla visualizzazione desktop oppure impostarla nella sezione di sinistra o destra se vuoi suddividere lo schermo in due sezioni Dalla visualizzazione desktop se hai alcune applicazioni aperte compariranno le icone nella barra delle applicazioni naturalmente e passandoci sopra con il mouse potrai ottenere un'anteprima grafica visuale dell'applicazione che potrai richiamare Invece cliccando sulla stessa icona con il pulsante destro del mouse nascerà un piccolo menu che ti consentirà varie opzioni tra cui chiudere l'applicazione stessa portarla in visualizzazione completa a desktop oppure aggiungere l'icona per un avvio rapido alla barra delle applicazioni trovandola successivamente accanto a quelle già presenti eccoci qua a Google andiamo a vedere insieme alcune funzioni del desktop se vuoi visionare immediatamente il desktop in fase di avvio del sistema operativo regati nella barra delle applicazioni in una zona vuota con il pulsante destro del mouse clicca sulla barra delle applicazioni stesso e seleziona proprietà da questa schermata vai a visionare la sezione esplorazioni e individua nella schermata start questa sezione vai ad inserire il segno di spunta per mostrare il desktop all'avvio del sistema operativo clicca su ok e dal successivo riavvio noterai questo desktop ricordati che è sempre possibile passare dalla schermata desktop alla schermata start in vario modo cosa che già hai visto nel precedente tutorial ora andiamo a vedere una funzionalità che ti permette di suddividere il desktop in due sezioni regati nella zona in alto del desktop cliccando con il pulsante sinistro del mouse e tenendolo premuto spostando il tutto verso il basso noterai che una finestra verrà rimpicciolita e ti permetterà di spostare questa finestra verso destra o verso sinistra in modo da suddividere il desktop in due sezioni in questo modo potrai attivare le varie applicazioni necessarie al tuo utilizzo puoi sceglierle dalla barra di applicazioni naturalmente potrai decidere di avviare più di un'applicazione sfruttando le due sezioni ad esempio passando per la schermata start scegliere informazioni di finanza oppure attivare qualche altra applicazione di cui hai piacere potrai scegliere se visionarla nella sezione di destra o di sinistra in base alle tue necessità in questo caso come puoi vedere ho aperto tre applicazioni oppure scegliere altre applicazioni in base alle tue necessità potrai posizionarla nella sezione di destra o di sinistra nel momento in cui hai aperto più di un'applicazione potrai nella zona di sinistra in alto a sinistra selezionare quale applicazione andare a visionare alterlandola alla precedente cliccando con il pulsante destro sull'icona potrai selezionare un menu che ti permetterà di chiudere l'applicazione o ingrandirla a piano schermo oppure sostituire la stessa nella zona di sinistra o di destra alternandola alla precedente applicazione aperta oppure apriamo un'altra applicazione magari quella delle mappe posizioniamola nella sezione di destra nell'icona che si genera dell'applicazione puoi cliccando con il pulsante destro generare un menu che ti permetterà di interagire con la stessa in questo caso ridurla ad icona ingrandirla a piano schermo oppure chiuderla operazioni che potrai anche selezionare con i classici pulsanti sul lato destro dell'applicazione stessa quindi come puoi vedere puoi spostare a destra e a sinistra le tue applicazioni in base alle necessità dalla barra che si genera ti permetterà di selezionare l'applicazione per una migliore versatilità della stessa sempre in base alle necessità di lavoro potrai come detto massimizzarle a piano schermo oppure ridurle ad igona o chiuderle direttamente nel momento in cui hai più di un'applicazione aperta ma posizionata nella zona della barra delle applicazioni posizionandoti sopra la stessa potrai avere un'anteprima dell'applicazione stessa cliccandoci con il pulsante destro potrai o massimizzare a piano schermo l'applicazione aggiungere l'applicazione quindi il collegamento alla barra delle applicazioni posizionandole accanto alle precedenti in modo di avviarla rapidamente se fosse un'applicazione di uso frequente oppure chiudere l'applicazione direttamente come puoi ben vedere questa opzione del desktop lo rende molto versatile nel caso in cui tu avessi un solo monitor ma per lavoro avessi la necessità di spostarti tra una sezione e l'altra senza difficoltà per completezza puoi visionare un video didattico dal sito della microsoft a questo indirizzo link che troverai nella descrizione di questo video tutorial nella prossima lezione ti farò diventare cameriere infatti ti parlerò di menu ora un forte saluto ciao a presto regalo e dalla prossima ciao a presto ciao a presto ciao a presto ciao a presto